Amici 3B Meteo, bentornati a questa nuova edizione del TGT3B. Partiamo come sempre dall'immagine delle satellite che ci mostrano in Italia con qualche schierita in più rispetto ai giorni scorsi, però degli annuvolamenti si vedono ancora al nord-est e poi al sud, situazione a tratti ancora un po' variabile ma con schierite anche decise. Nelle prossime ore però al sud sarà ancora possibile qualche piovasco soprattutto in Puglia e sulla Sicilia tirenica ma come vedete torna un po' di sole anche nelle regioni meridionali e nel resto d'Italia vedrete nelle prossime ore le schierite saranno davvero ampie e decise. Però temperature sempre piuttosto bassine e ancora un po' di vento, vento che si fa sentire per il momento soprattutto nelle regioni meridionali. Cosa accadrà poi tra domani e dopo? Nuovo impulso di aria fredda sull'Italia quindi nuovo peggioramento del tempo e ancora una volta soprattutto sul medio adriatico e al sud. Andiamo a controllare infatti il tempo di questo mercoledì, tornano degli acquazzoni, tornano forse anche dei temporali sul medio adriatico e poi queste piogge si trasferiscono nella seconda parte del giorno verso le regioni meridionali e come vedete abbiamo messo anche il simbolo della neve sulla penino centrale anche a quote relativamente basse per essere ottobre 1300-1500 metri. Invece tempo sempre bello al nord e sul medio alto versante tierrenico. Giovedì migliora sull'adriatico invece le piogge si concentrano sulle regioni meridionali e tra Calabria e Sicilia potremmo avere anche precipitazioni piuttosto intense. Però saranno giornate anche ventose, guardate ad esempio giovedì venti sostenuti fino anche a quasi 100 chilometri orari, venti da nord est, mari di conseguenza molto mossi o agitati e anche le temperature come vi dicevo rimangono relativamente bassine con massime sotto i 20 gradi ma in alcune zone anche sotto i 15. Per tutti i dettagli comunque sulle vostre località scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.